Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e oggi siamo qui su Fortnite. Facciamo un paio di partite, giocheremo sempre con la skin di Spider-Man, spero che i video vi piacciono, quelli precedenti. E' partita la musica, vi ricordo di seguirmi in questo link che vedete qui e il mio programma dei video che usciranno su YouTube, non vi preoccupate ci saranno altri video che usciranno nel mese di gennaio. Detto questo, direi di fare qualche partitina. Eccoci qui ragazzi, ho fatto un paio di partite di riscaldamento, spero che... Allora, dove andiamo? Santuario? Fino a lì giù, come cazzo c'è lì? Andiamo verso giù. Ragazzi, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave18. Seguite il link qui alla mia sinistra, se volete supportarmi. E non solo ragazzuoli, e non solo. Spero che vi piacciono gli altri video e questo video uscirà il 7 gennaio, come potete vedere qui sopra di me, la tabella di marcia. C'è la tabella dei miei video che usciranno su YouTube. Intanto mi giro ogni volta, e non solo, mi scappa anche la cacca. Ma andiamo avanti. Siamo nella parte western, ancora inesplodata da me. Ok, abbiamo un fucile a pompa. Ne faccio ben poco, se dobbiamo fare uno scontro rapido. Eccolo qua. Ecco, questo è molto meglio. Ecco, questo è molto meglio. C'è qualcuno vicino a... C'è qualcuno vicino a... Ok. L'ho fatto fuori uno, e va bene. Arrivo. Paranguchero. Grazie a tutti. Mi ricordo che ancora non ho trovato nè un cecchino e nè un... Questa voleva essere utile. Questa è molto utile. Dai raga, davvero. Ah, eccolo. Siamo abbastanza lontani? Molto lontani. Dobbiamo prendere la macchina assolutamente. In tutto questo mi scappa... Vieni, vieni. Scusa, ma non può venire come un cristiano, no? Intanto... Ragazzi, faccio un attimo di pausa e arrivo. Ecco qua. Ecco qua. Scusa. 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 Grazie a tutti. 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 No, no, io vado a piedi. Vado a piedi. Vado a piedi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, non mi interessa. Mi investe questo stronzo mi investe adesso, guarda. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno. Scendiamo. Scendiamo. No, no, no. No. No, no. 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 Ok siamo tre contro dieci Ok A posto Oh Perfetto ucciso Ce n'è un altro C'è un altro che spara Donna se mi fa cacca sotto Raga qui 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 Ok Ok posso No 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 Oh basta No 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 regà no 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 dai sono stato coglione io qui Eh lo so sono stato coglione Salvami salvami Ma qua che occhio bruci Ok fammi andare più la roba Subito Immediatamente La carne Dove Ok Qualcuno non c'ha le scudo No Dai forse raga forse questa la vinciamo Siamo tre contro uno Dai regà questa non la possiamo perdere Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì porto a casa questa eccoci ragazzi portare a casa la prima vittoria reale e siamo qui per farne un'altra sperando finché ne siamo tutti uniti senza panico intanto siamo in quattro ragazzi via tutto via tutto arrivo arrivo ssh zitti curati ecco 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 Ok c'è il cecchino lì E va bene Ho sbagliato No non metto pausa ancora Due minuti ancora Ok 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 Come si sentono eh Si senta Ah Ho visto uno sparo Sai c'è Lo faccio un po' di cazzi mia Bello Quotato che quello la viola muore Quotatissimo Ah no c'è il coso Delle armi Vediamo se riesco a trovare qualcosa di buono Anche quello giallo potrebbe morire eh Olè Votato Regà Ve lo dico subito 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 eh Io potrei morire Metto pausa e arrivo Ah i sceldini Vediamo se qua non è posto per noi C'è qualcuno che è da lì Ok Andiamo verso di loro Come a voler desiderare la morte Si lo vedo Si lo vedo Li vedo Li sento Che li vedo Mannaggia per poco Lo vedo Olè Andiamoce perché sennò qui Hanno una bella frittata Siamo abbastanza lontani Palloncini troppati Eeeh Visto E come se ti ho visto Vabbè però Tu li vedi Madonna se li beccavo Fatti vedere Vabbè 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 Andiamoci 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 Dobbiamo andare Dobbiamo andare Andiamo 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 Dobbiamo andare Fra Metto pausa e arrivo Ecco qua Andiamo Sì, ho un po' paura Credo che sia normale Vabbè tanto, ci siamo, ci siamo Vimbeste Vimbeste Vabbè tanto, ci siamo Ok guys, guys Sì, vabbè, vallo pure in inglese A posto Madonna, diga Fammi ricaricare l'arma No cazzo no Bastardo Mi nascondo qui sotto No, sto qua fuori Eccolo No, va bene, regà Non l'ho preso Mamma mia, regà Che battita Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Ragazzi, dobbiamo andare Veloci No, bastardi Eh no, non ce la faccio Non ce la faccio proprio E niente Però confido nel mio amico Vediamo un po' se riesce lui A vincere Eh, io purtroppo sono morto Ah, però vuole recuperare la mia scheda Fratello, lo sai che hai fatto la cazzata più grande della tua vita? Dove cazzo vai? No Non si sa per quale miracolo Abbia No, ragà Io c'ho una paura per lui In questo momento Allora Se lui dovesse vincere questa partita Vale, eh Madonna mi rimette in piedi Non ci credo No A sinistra Sparai Barighati No, no Ti devi baricare Oddio se ce la fa Ragà, se ce la fa, eh Quanto ci mette? Ragà, devo prendere tutto Tutto Ora ne vengo a andare a mano, compà Presa Quasi Che bastardo Neanche riesce a spararmi, davvero C'è ancora speranza, signori Il mio compagno potrebbe salvarsi È abbastanza bravo lui Mi confido in lui Confido in lui Ok, a sinistra Eh, lo sa Lui lo sa Ok, quello è un giocatore vero A sinistra Bravissimo Concentrati ora Concentrati A sinistra sempre Fratello a sinistra Eh, te l'avevo detto però Va bene così, va bene così Ragazzi, questo riguarda uno spoiler Riguardante Spider-Man New Way Home Ok Sapete cosa doveva dirgli Peter Parker e MJ Al finale? Questo Questo qua Semplicemente Eccoci qui signori Terza ed ultima partita Balliamo un po' Ok, speriamo di fare del nostro meglio Una l'abbiamo vinta Una l'abbiamo persa E ora vediamo qui Cosa potrebbe succedere Ok Bene Secondo me uno abbandonerà Quotato È quotato Pam 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 Scream pam pam perra Anже sono tutti online signori Nessun abbandonato Il coraggio premia I Vabbè capito La mia cazza sta dormendo Ed è oggi È una giornata non ottima Ma eccezionale Come disse Free guy Qualcuno ci segue? Qualche psicopatico assassino? Sì Bene Andiamo sopra la burger Subito Immediatamente Va bene così Ok eliminato Via subito Questo E questo È vero che fate progressi Fucile da cecchino Incoming No non lo posso permettere A lui Si abbia una mano sicuramente Ok abbiamo limitato Un fucile da cecchino Non volevo Non volevo nascondere Perché ho sbagliato Tasto C'è qualcuno vicino a me Non volevo questo Venga se volete Sta qui Cassaforte Cassaforte Perfettico No Un fucile No 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 Sto per fare una cazzata Aiuto la tua frana, grazie Mamma mia, che add shot Venite a me, paparino E' così che si gioca, baby Metto pausa Vabbè, io me ne andrei Non mi interessa Come benzina è già finita? Impossibile Ok Shindy Ho una strana impressione Come se qualcuno mi stesse spiando No, non mi interessa 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 Non mi interessa Ho capito che voleva passare No, non mi interessa No, non mi interessa Io vi vado a musù duro Porco Giuda Che figura di merda Sta sopra fra Non, non, non Perfetto Signori, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Youtube e su Twitch come Kingslave Corporation Nuova pagina Instagram, Kingslave18 Il link qui per donarmi, lo sto cliccando ora Qui è il mio programma per il mese di dicembre e per il prossimo Spero che questo video vi sia piaciuto E ci vediamo in un prossimo video su Fortnite Ciao gari